2001 Odissea nello spazio In questo film ci sono molti errori di natura fisica. Noi siamo andati ad analizzare una scena del film in cui un personaggio viene scaraventato nello spazio senza la parte posteriore del casco. E cosa succede? Il personaggio continua a vivere, ma ciò nella vita reale è impossibile per vari fattori. Ma cosa accaderebbe se anche nella vita reale noi potessimo andare nello spazio senza tuta? Il fattore che andremo ad analizzare è l'ossigeno. Come possiamo vedere nel film, il personaggio sopravvive. Ciò significa che riesce a respirare nello spazio. Bisogna però dire che se nello spazio ci fosse l'ossigeno, nella Terra e negli altri pianeti probabilmente non ci sarebbe nessuna atmosfera. Quindi i pianeti visti nello spazio risulterebbero veramente difficili da vedere. Ma questo è uno degli aspetti meno importanti. Infatti in assenza di atmosfera, la Terra non avrebbe l'effetto serra. Il calore rilasciato dal Sole verrebbe disperso nell'intero spazio. Ciò provocherebbe giornate caldissime e notti con freddi polari. In realtà la mancanza dell'atmosfera è anche tra i meno gravi. L'ossigeno nello spazio causerebbe la perdita di vuoto e quindi i pianeti andrebbero a fuoco e probabilmente non ci sarebbe alcuna forma di vita nella Terra. L'ossigeno nello spazio causerebbe la perdita di vuoto e quindi i pianeti andrebbero a fuoco 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 a fuoco. Grazie per la visione!